Oramai è solo questione di tempo, l'intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare l'economia globale, ma rischia di travolgere buona parte dei posti di lavoro in tutto il mondo. Il 40% nelle economie emergenti, dalla Cina all'India al Brasile, il 26% nei paesi a basso reddito e fino al 60% nelle economie più avanzate, dall'Europa agli Stati Uniti. Non solo, l'IA è quasi certamente destinata ad aumentare le inuguaglianze sociali ed aumentare il gap tra i paesi più ricchi e quelli più poveri. Stavolta l'avvertimento arriva dal Fondo Monetario Internazionale, con un rapporto lanciato alla vigilia del World Economic Forum di Davos, in un momento in cui è acceso il dibattito sull'uso delle applicazioni come il chat GPT e quello sull'utilizzo dei robot nel settore produttivo. Nel rapporto si indicano quali sono i lavoratori più a rischio, quelli destinati ad essere spazzati via dall'avanzare dell'intelligenza artificiale. Le mansioni più a rischio sono quelle nel settore del telemarketing o quelli del call center, ma anche, si legge nello studio, i lavapiatti o gli artisti. Tutte quelle figure, insomma, a bassa complementarietà con l'intelligenza artificiale. Assicuro invece le professioni come chirurghi, giudici e avvocati, tutte figure che si avvalgano e che possono beneficiare del supporto dell'intelligenza artificiale, ma che non rischiano di essere rimpiazzati dalle capacità delle nuove tecnologie.